McDonald's apri i confini al mondo cripto, infatti all'interno del McDonald's di Lugano in Svizzera, a pochi chilometri dall'Italia, è possibile pagare in Bitcoin. Lo vediamo all'interno di questo video, sono andati a selezionare quello che vogliono consumare all'interno del Mac, una ricca colazione, arriva la signorina e gli dice, ehi senti bella, che posso pagare in Bitcoin? Addirittura il post ha sia Bitcoin sia Tether, quindi accetta anche Stablecoin, interessante, ci va, andiamo a inquadrare il QR code e nel giro di nemmeno un secondo abbiamo già pagato il nostro McDonald's, quello che voglio pagare al McDonald's in Bitcoin. Sicuramente qualcosa di rivoluzionario in quanto McDonald's è una big azienda che si sta schierando all'interno del mondo delle cripto. Ma tu pagheresti in Bitcoin oppure preferisci tenerteli sotto al materasso? Fammelo sapere nei commenti e mi raccomando, seguimi se ti interessano le cripto e gli NFT.